di Monte Sant'Angelo, dove ha ricevuto il sigillo d'oro dal rettore Guido Trombetti. Lo studioso che ha quasi 80 anni ha tenuto una conferenza sulla nascita dell'astrofisica del neutrino, campo nel quale ha svolto le sue maggiori ricerche, giungendo alla scoperta della struttura di questa particella infinitesima che è il neutrino.